La prima sera a Chamay ci siamo diretti subito nel miglior ristorante di hamburger della città Questo si commenta da solo Dopo mangiato abbiamo fatto due passi in uno dei tanti mercatini che ci sono nella città Siamo in un supermercato e vendono la verdura impacchettata nelle foglie Il giorno dopo ci siamo svegliati e ci siamo diretti verso la montagna a Doi su Te Che si trova a pochi chilometri da Chamay Ho trovato questo mini coffee shop, il mio intuito mi dice che il caffè qua è buono Siamo in mezzo alla montagna e vedremo Credo che il locale di questo è buono Siamo arrivati di nuovo in città, Beast Burger Siamo arrivati mezz'ora prima che aprisse quindi abbiamo aspettato Abbiamo aspettato che aprisse Intanto ci siamo presi un bubble tea che era spettacolare Andiamo a mangiare il hamburger Il hamburger è pronto Ok, questo è un pochi, guarda se c'è il burger Ok, ciao Qua giorno numero 3 a Chiang Mai Bibbietà tradizionale italandesi si beve in teoria con le mani ma loro hanno messo anche la cannuccia Buono? Buono 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 Abbiamo trovato questo baretto dove fanno le torte fatte homemade Buono La cheesecake al banco Era troppo buona Saturday night market Siamo al mercato del sabato sera Al mercato ho trovato quella cioccolta che avete visto prima e ho voluto prenderne qualcuno da portare a casa. Ho compreso delle uova fritte di guaglia. Grazie a tutti. Non abbiamo la strada, ma non lo si è mayor normale per me. E' la trattata. Sophie non ho simile a te traduce di coloraggio? È'anu mentre si andiamo. Està content per me. Sì Abbiamo fatto una colazione leggera, di caldo e yogurt, siamo venuti a provare la palestra dell'hotel. Andiamo a fare l'ultima colazione a Chiang Mai e poi ripartiamo. Eccoci qua, ultima colazione a Chiang Mai. Eccola qua, è arrivata la colazione, spettacolo, formaggio, uova, prosciutto, qui abbiamo uova, roast beef e due salsine. Eccoci qua, finalmente siamo arrivati. Finito questo viaggio, siamo tornati a casa, sani e salvi. Ciao ciao, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.